Ciao a tutti, AC Milan TV, siamo venuti allo stadio mercoledì sera e Milan ha vinto contro Siena e adesso tocca a me, devo vincere io qui in Vallelunga con la macchina di AC Milan siamo cominciati abbastanza bene, ero in final shootout per la pole position siamo finiti secondo perché avevo la gomma fresca però almeno ce l'ho domani in gara perciò lo vedo molto bene la gara e possiamo vincere una bella giornata complimenti e buona fortuna per domani grazie mille